Chi potrebbe dire sia la più famosa persona sui telefoni? Trovo a chiamare a Gattuso se mi rispondi. Vediamo se mi rispondi. Non rispondi. Vediamo immobile se mi rispondi. Frate, frate ti ho chiamato perché sto facendo lo shooting con la MLS. Ho detto, chiama la persona più famosa che è sul telefono. Devo far vedere? Sì, lo saluto. Ok.